Musica Giornata da segnare con il pennarello rosso sul calendario. Mercoledì 19 luglio si andrà da L'Amour a Ser Chevalier. Da scalare ci saranno diversi gran premi della montagna, tra cui due Ors Category, il Col de la Croix-de-Ferre 24 km al 5,2% medio e il Col du Galibier 17,5 km al 6,9% con picchi del 12%. Appena prima del Col du Galibier ci sarà da doppiare il Col du Telegraph, quasi 12 km al 7,1% medio. Il Galibier sarà il gigante del Tour de France 2017 con i suoi 2.642 metri sul livello del mare. Gli ultimi 28 km verso Ser Chevalier saranno in discesa.